Se uno scagnozzo mi hitta, il video finisce Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'adm shop Scrivere codice creatore forto, così come vedete a schermo Accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi intanto che le andiamo, prima di dirvi anche la sfida Voglio ricordarvi che da 4 mesi da questa parte ormai portiamo ogni sera le live sul sito Viola Andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirci Perché stasera saremo in live Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso la nuova agenzia per tentare la sfida di oggi Che se uno scagnozzo mi colpisce il video finisce Permettetemi la rima, vediamo un attimo raga come ce la caviamo Devo dire una cosa, sinceramente la voglio dire subito A me sembra che tutti siano diventati più forti Bot, nemici, tutti ragazzi Io non so cosa sia successo a Fortnite ma le persone mi sembrano tutte diventate più forti del triplo Minimo Boh, forse nessuna mia impressione, forse mi sbaglio io, non lo so Un'altra cosa che invece devo dirvi molto più, molto più inerente alla sfida è proprio che Voglio fare in modo che i colpi che possono essermi dati siano solo ed esclusivamente di giocatori Quindi se per esempio anche i briganti mi colpiscono Ragazzi la sfida finisce quindi non si limita esclusivamente ai scagnozzi Ma a qualunque tipo appunto di nemico non umano, non giocatore Facciamo così, secondo me risulterà il tutto più divertente Per voi, non per me Però, vabbè, ovunque Questo lo levo per ora dato che non lo so ancora utilizzare benissimo Tattico lo shotgun me lo tengo Uh, passiamolo di qua, ok E' permesso? Ciao No 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 No, no Boss, no, no Lasciatemi stare, lasciatemi stare No ragazzi, e mo come me vado No, sta pure arrivando qualcun altro Dai ragazzi, dai ragazzi, posso farcela Devo solo fuggire Ciao Uh, ok Allora, aspettate un attimo che vorrei vedere se riesco a eliminare però il nemico che sta sotto Che dovrebbe stare tipo qua No, dov'è? Stava qui No, 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 no Vabbè, la mia esistenza però ha seri problemi La mia esistenza ragazzi che ha dei problemi Cosa mi ha colpito prima? Ah no, mi ha eliminato il boss No No, 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 no... Grazie a tutti.